In questa lezione introduttiva vorrei fare una panoramica generale, pensata soprattutto per chi non ha mai aperto Photoshop, che possa essere d'aiuto nelle lezioni successive per capire alcuni concetti che, seppure verranno approfonditi nei rispettivi capitoli, sono in ogni caso necessari per avere un'idea di come funziona questo software. Con Photoshop abbiamo la possibilità di utilizzare una nutrita serie di strumenti manuali che vanno a gestire sia la parte di pixel della nostra immagine, sia, come in questo caso, la parte vettoriale. Sarà perciò semplice e abbastanza intuitivo con tutti gli strumenti come il pennello andare a selezionare il livello sul quale vogliamo lavorare e andare poi ad utilizzare questo strumento come se fosse appunto un pennello fisico. La stessa cosa funziona per quanto riguarda l'interfaccia. Quando ci troviamo davanti a icone di questo genere, possiamo cliccare per andare a modificare manualmente le impostazioni, piuttosto che selezionare e scrivere quello che ci interessa, o ancora andare a posizionarci direttamente sulla voce, vedete come cambi il cursore, cliccare e trascinare verso destra o verso sinistra. E' poi possibile annullare, come vedremo, almeno in parte le modifiche che andiamo a fare ai nostri file, anche se è sempre comunque consigliato lavorare in un'ottica che permetta la maggiore flessibilità ed editabilità possibile dei file già lavorati. Questo perché, come tutti sappiamo, i clienti tipicamente sono abbastanza indecisi sulle modifiche che vogliono ai loro file e di conseguenza dovremo sempre avere la possibilità di poter tornare indietro per riprendere il lavoro senza doverlo rifare da capo. Photoshop poi è famoso per altre cose, tipo l'utilizzo dei livelli. Vedete come io abbia diversi tipi di modifiche, il livello di sfondo, un altro livello che va a modificare questa parte bassa dell'immagine, nascosta da una maschera di livello che altrimenti farebbe agire questo livello su tutta la mia immagine, un livello poi di testo, perché in effetti Photoshop gestisce piuttosto bene anche la parte di strumenti vettoriali come il testo o altri che vedremo durante il corso, per non parlare poi della parte di supporto a quanto riguarda il video L3D che verranno introdotte in due brevi lezioni durante questo stesso corso. Oltre a questo vedete come ci siano diversi tipi di livelli, già le miniature ce lo indicano, questo è un livello di testo, lo possiamo vedere e abbiamo anche un'idea di cosa succede agli altri livelli, così come abbiamo un'idea abbastanza chiara vedendo questa maschera di livello che in questo caso è nascosta da una X rossa, mentre in questo caso è visibile e fa il suo lavoro, cioè va a nascondere parte del livello che sto andando a modificare. Ci sono poi i livelli di regolazione che ci permettono di andare a modificare il nostro file in maniera non distruttiva, ossia che ci permettono di andare a tornare sempre indietro in qualunque tipo di modifica che noi andiamo a fare anche una volta che il nostro file è stato chiuso. Proprio a questo proposito è anche abbastanza intuitivo andare a scorrere tra i menu per capire cosa fanno, per esempio aprire un file già esistente, la file apri e poi andare a selezionarlo all'interno del nostro hard disk dove sappiamo che l'abbiamo riposto, annulliamo per un attimo, piuttosto che andare a creare un nuovo file da zero che ci permette di andare a impostare come vogliamo noi il nuovo documento sul quale stiamo andando a lavorare. Vi consiglio perciò di guardare e di cercare di capire come funzioni Photoshop, eliminiamo per un attimo questo livello, vedete basta trascinarlo sull'icona a forma di cestino, anche qui la cosa è abbastanza intuitiva, pensando che comunque è un software che ha diversi anni di sviluppo, 21 per la precisione, alle spalle e che è stato migliorato sia per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti e delle prestazioni, ma anche è stato studiato con un occhio di riguardo per quanto riguarda l'utilizzabilità del software, perciò ovviamente non è un software adatto a un principiante senza un'adeguata preparazione, ma in ogni caso cerca di mettere in primo piano le informazioni che ci possono servire di modo che se possano essere trovate senza stare a perdersi nei meandri di menu piuttosto che dei pannelli che abbiamo a disposizione. Photoshop poi ci permette di andare a fare modifichi semplici come quello che abbiamo fatto appena adesso di andare a tirare una pennellata piuttosto che modifiche estremamente più complesse utilizzando per esempio la stessa immagine in un altro metodo colore, andando a visualizzare i canali dell'immagine che sono i componenti fondamentali della stessa in diversi modi, vedete qui abbiamo un lab e qui invece abbiamo per esempio un RGB, andando a mischiare tra di loro tutte le varie caratteristiche che abbiamo, questo è anche uno dei concetti che poi sono stati sviluppati nella Creative Suite, ossia la possibilità di poter interagire tra diversi software, perciò per esempio all'interno di Photoshop sarà possibile aprire, seppure in modo un po' particolare, un file di Illustrator oppure all'interno di InDesign sarà possibile importare un file di Photoshop e andare ad accendere e spegnere i livelli come stiamo facendo noi adesso. Questo comunque perché le modifiche che ci possono essere richieste di fare, sia che sia lavoro o che sia semplicemente un hobby, sono le più disparate ed è importante avere la massima flessibilità e interazione sia all'interno dello stesso software che stiamo utilizzando, sia anche quando ci dobbiamo interfacciare con altri software all'esterno, sia in caso che dobbiamo importare dei file, sia nel caso in cui dobbiamo andare a esportare perché la lavorazione poi verrà continuata da un'altra parte. Man mano che andrete avanti con l'utilizzo di Photoshop scoprirete che una volta che avete messo a fuoco quali sono gli strumenti, le funzioni, i pannelli e i nomi delle cose che avete bisogno di utilizzare, ci sono poi tutte le combinazioni tra questi singoli elementi perciò in effetti non sarà mai la fine dello studio di uno strumento come questo perché è così complesso e le combinazioni possibili per le diverse necessità che ci sono sono così tante che non è di per sé pensabile di mettersi lì e studiare dall'inizio alla fine tutti gli strumenti di Photoshop, tutti i filtri di Photoshop che possiamo andare ad applicare in modo anche abbastanza intuitivo e che vanno a modificare la nostra immagine e sono in certi casi anche tristemente famosi per gli scarsi risultati che possiamo ottenere nel momento in cui non andiamo ad utilizzarli con cognizione di causa ma anche qui tutto questo deriva sia dalla formazione e dalla sensibilità di ognuno sia anche dal proprio gusto personale. Man mano che andrete avanti con lo studio di questo software vi imbatterete in problematiche come la gestione del colore che verrà introdotta in uno dei capitoli successivi del corso piuttosto che la riproducibilità in stampa dei colori piuttosto che i diversi tipi di output che possiamo avere dello stesso file perciò web, dispositivi mobili, stampa digitale, stampa offset o quant'altro. Questo ovviamente non viene detto per scoraggiarvi rispetto a quello che vi aspetterà nel vostro percorso di studio o di formazione bensì per mettervi sulla strada e nella concezione di idee che le cose in ogni caso anche qui vanno sempre fatte a passi e si vanno ad accumulare una dopo l'altra. Questo è anche lo spirito con cui è stato creato questo corso ossia di dare dei moduli per argomenti che vengono poi ovviamente sviluppati singolarmente ma che di fatto sono tutti quanti interconnessi tra di loro. È anche il motivo per cui in moltissime lezioni si fa rimando ad altre parti del corso e anche il motivo per cui questa lezione è stata fatta perciò per mettervi in condizione di avere quei due o tre concetti di base che non sono stati spiegati come dovrebbero in questa lezione ma solo in modo intuitivo verranno poi trattati nel dettaglio nelle lezioni successive. Ma questo è servito di modo che voi possiate seguire senza problemi le lezioni che verranno.